Il comune di Pomezia si è giudicato l'asta per l'acquisto dell'ecomostro di Piazza Ungheria, conosciuto come Ex Biaggio. La procedura è stata completata con tre mesi di ritardo dopo un primo annullamento a luglio per problemi tecnici. A un momento storico per la nostra città, ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà che promette questa acquisizione ci consentirà finalmente di ridisegnare un tratto del lungomare di Torbaianica all'insegna del decoro urbano e della sostenibilità ambientale. Ora attendiamo il completamento dell'iter di assegnazione, ma già siamo pronti ad abbattere il più grande ecomostro presente sul nostro territorio e a lavorare per riqualificare e ingrandire la piazza. Non succede spesso che l'amministrazione partecipi a un'asta, spiega Zuccalà che conclude «Nessuno credeva fosse possibile, qualcuno ha anche provato a disturbare l'operazione, ma noi ci abbiamo creduto fino in fondo e riusciremo a restituire al litorale la bellezza che merita».